Let's go! Bentornati ovetti su Luigi's Mansion 3! Nello scorso episodio siamo arrivati all'ultimo piano dell'hotel lattico e in questo episodio, beh, proveremo ad andare avanti e quello è un poster di Luigi, non fatevi ingannare quindi andiamo subito avanti! C'è una telecamera là sopra Ok, va bene Allora Oh, il ritratto di Rebu ci segue Posso per caso... Ok, no Ci conviene stare attenti Vi ricordo inoltre che la proprietaria, la Crisantemi, è una fan sfegatata di Rebu Ed è per questo che... Oh, ok Ed è per questo che voleva liberarlo E beh, lo ha fatto E adesso, forse, riuscirò a... Cosa devo fare qua? Scusi, signore Devo far combaciare la statua, giusto? Così Forse un altro po' più a destra No Mmm, mi chiedo quale sia l'errore, perché... Non credo di essermi sbagliato troppe volte Ok, vai così Ok, perfetto Ora Luigi Luigi Eccolo, eccolo, eccolo Un altro po' Perfetto E adesso ecco qui Gemma e soldi Perfetto Anche perché vi ricordo che nel prossimo episodio Al posto di fare il boss finale O forse il boss finale Ancora non so quanto ci manca Andremo a prendere tutte quante le gemme E tutti quanti i buri manenti Ovviamente, eh Senti, sta fermo per un secondo, ciccio Fatti aspirare Anche da me E adesso doppietta Ho capito che non serve per forza Aspirare completamente con gommi Luigi Quando fate una doppia... Beh, aspirata Quindi Adesso che lo so Possiamo Andare avanti Non può essere così semplice Attento Luigi Questo posto è pieno di laser invisibili Invisibili, eh? C'è della polvere per terra Con un sobbalzo puoi sollevarla Per rivelare i laser Bene, ok Fortuna che lo so adesso Allora Dammi la perla Grazie Adesso Vediamo un po' Suppongo che i laser Non siano infiniti Ma bisogna comunque stare attenti Nel senso Che bisogna stare attenti Punto E bisogna evitare i laser Ma Voglio comunque Ma scusi Ah ok, no Sono cadute di sotto Oh, perfetto Perché stavo per dire Non è che Sono tipo spariti E sono entrati nel muro Quei cosi Ehm Intanto qui cosa c'è? Topi dorati Ok E uno scrigno E A quanto pare Ci posso accedere da Beh, non da qui Ma dall'adietro Almeno credo In ogni caso Stiamo attenti Dammi tanti bei soldoni Suonanti E adesso No No, 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 no Ok Adesso Eh L'ho perso l'occasione Aspetta Ora Piano, piano, piano Vai Luigi Corri Luigi Perfetto Adesso No Sicuramente è così Ma Ok Perfetto Libera il drago Guarda Ci deve per forza essere Un passaggio segreto Vero? Avrebbe molto Molto senso Dai Cosa devo fare qua? Vedo il libro Lo vedete anche voi il libro? Bene Perché È un libro E al 90% Devo tirarlo O fare qualcosa di simile Posso provare a spingerlo No Beh Per adesso Non so come attivarlo Possibile che io debba No Ok Qua c'è qualcosa Beh Sì C'è un librone gigante Aspira Ah Devo magari Dato che è gigante No Mi sarei aspettato Oh non lo so Si può aprire il libro Per rivelare qualcosa Beh Ho preso altri cuori Che mi servivano Quindi grazie Tanti cuori Mamma mia Beh Siamo arrivati anche Alla parte finale È una torta È una torta Ok Torta Poi Devo spin Come si fa Girare la pagina No Dai Tira la pagina Luigi Luigi La pagina Luigi È così pesante Beh Quella è una torta Non so perché ci sia una torta là sopra Ma non posso farci nulla a quanto sembra Quindi Come ho fatto a girare pagina scusa Prima Non posso soffiare Posso usare gommi Luigi Ma non credo che funzioni Ma Tentar non nuoce Allora Aspira E depulso No Non funziona E allora Non so come Esplorare bene Questa stanza Vedremo poi Flash No Non voglio metterci tre secoli Quindi Qui ci sarà sicuramente una gemma Che ora come ora Non posso prendere Quindi Per ora Ignoriamo la cosa E poi vediamo se riesco a prenderla domani O dopo Nella parte extra insomma Quindi vai così Apri questa cosa Grazie Perfetto Libri Quindi questa è la libreria Possibile che Il trucco sia nascosto In un'altra libreria E non sia quel libro Là sotto Aspetta un attimo No Ok Non c'è niente qua Prendiamo la chiave Una di quattro chiavi A quanto pare Che servono per Andare dal boss Almeno credo Ok Sento rumori molesti Cosa c'è qui Aia Aspetta un attimo Dove siete? Beh uno sarà qua? No? Dove sono? Dove? Mi sento Oh laggiù eh Ok Beh Se mi dite che devo seguire la strada Oh Senti Non mi guarda? Ok perfetto Adesso Vieni qui Perfetto Fatti catturare per favore Che Già sicuramente L'episodio verrà molto lungo Non voglio rischiare Che venga troppo lungo Perfetto Uno Dai C'ero quasi riuscito Dai Ok Stai fermo per un secondo Dammi La possibilità Di catturare questo coso Te ne prego Grazie Ok Uno Due Tre Ok Ora siete da soli Quindi vi posso forse catturare Mamma mia Il tempo Oh Ce l'ho fatta Mamma mia Fatti prendere Mio caro Nascondino O come ti chiami Bam Perfetto Ne manca solo uno Chissà se è possibile schivare gli oggetti che ci lancia In maniera molto più pratica Ok Eh sì Ho capito che non posso ancora passare Dammi il tempo di catturare i fantasmi però Uno Due Tre E quattro Adesso possiamo proseguire Finalmente Dunque Vediamo un po' Ancora no Non voglio ancora andare laggiù Cuori magari Grazie mille Perfetto Vedo Statue Di gatti Ok Lì ancora non posso andare Ci sono però soldi là sopra Quindi grazie La telecamera intanto mi segue Ma è una cosa normale Almeno spero E qui manca una porta Quindi vuol dire che c'è una porta Vai così E dammi le sfere fantasma Magari in fretta Magari in fretta Grazie mille Dunque Eh A rigor di logica Ci deve essere Un'altra chiave nascosta qui No 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 Fermati 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 Andiamo piano Chi va piano Va sano E va lontano Cosa ha Giusto Laser Ok Lì ancora non ci posso andare Ma Credo che Gumi Luigi Possa passare attraverso queste grate E invece no Ah Quindi Ok ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Allora Gumi Luigi Resta qua Mi serve lui per Beh tra poco Allora Se aspiro questo La camera si gira Ok E non vedo altri laser per adesso Quindi Gumi Luigi Adesso va qua E adesso Soffio Per rigirare la stanza Per poi andare a disattivare il tutto Vero Vediamo se ho ragione Avrebbe molto molto senso Perfetto Allora C'è sicuramente qualche altra cosa nascosta Qui da qualche parte Stiamo attenti Ma prima qui Perla Grazie Scatole che non servono a niente Anzi no Mi danno cuori E i cuori sono sempre ben accettati Vai Ok Quante Erano tutte perle Quelle no Vero Erano tutte altre cose Spero Perché Allora Vediamo un po' Cosa riesco a fare adesso Spinge ancora un po' Luigi Perché magari c'è qualche altra cosa Molto probabile come cosa Appunto Quello è un riferimento A Luigi's Mansion 2 Ok Ok va bene Fantasma dorato Ma non è quello l'importante L'importante È che c'è un riferimento A Luigi's Mansion 2 In Luigi's Mansion 3 Ed è una cosa da L'ho sbattuto sei volte L'avete visto? L'ho sbattuto per sei volte Uno Due Tre Quattro Cinque Sì Mi sa che quindi è possibile Sbattere sei volte i fantasmi È molto raro però che succeda Oppure sono solamente io Credo di essere solamente io Allora Devo inoltre ottenere l'ultima chiave O meglio La seconda chiave da ottenere Quindi gira un'altra volta Eccola qui Perfetto No 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 Continua a soffiare Continua Continua a soffiare Per favore Ok Abbiamo ottenuto La chiave gialla Ora quella verde Blu e rosso È il colore più Easy Insomma O meglio Sarebbero le cose più easy Però 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 Vorrei rigirare tanto per Lo scenario Per vedere se posso fare qualcosa Qui E prendere una gemma Al posto di non prendere nient'altro Beh Posso a quanto pare soffiare Per poi mandare Gomme Luigi Quindi vai Gomme Luigi Bravo Che mi dà Tanti bei soldoni Grazie Credo non ci sia nient'altro A meno che Il disco non faccia qualcosa Aspetta Ah ok Sì Vai Fai Soffia Non sta facendo niente però Beh nel frattempo che Luigi Attiva il suono Io provo ad assorbire Qualche altra cosa Quindi vai Grazie mille Vi vedo Un Un salvadanaio Che non so se riuscirò a prendere Perché È un bel po' in alto Non Credo di farcela Va bene Nessun problema Nessun problema Qua invece Non c'è nient'altro di nascosto Io non so come andare nella libreria Quella sfera È molto strana È molto sospetta Ma Ahimè Ahimè Beh Se non c'è nient'altro Direi che possiamo Finire Almeno questa Zona Incontrare magari Altri fantasmi Che A quanto pare Sto per sentire Ah Ok Va bene E Poi Staccare L'episodio Quando avremo finito Il boss Però prima Qua dentro c'è qualcosa Una borsa Uno zaino Più che altro Che non contiene niente Allora perché Mi dai la possibilità Va bene Nessun problema Quello è Un Coso di Boo O meglio di Rebù Qua non c'è niente Vero Assolutamente no O forse ho già visto Cosa c'era là dentro Ho visto anche Il quadro da Rimaterializzare Prima però Vorrei andare di qua Non lo so Mi ispira Questa zona Anche perché È una delle zone Finali Allora Il problema è questo Signora Crisantemi Hai deciso di fare Tutte queste foto Barra quadri Con te E Rebù Dopo aver liberato Rebù O Prima di aver liberato Rebù Perché In ogni caso È leggermente Creepy come cosa Ci deve essere Un segreto Anche qui È da qualche parte Beh Ora so a che servono Le chiavi Però Andiamo C'è della polvere Qui per terra Beh intanto qua Libera La porta Perfetto Dammi le sfere fantasma E andiamo qua dentro Beh Vedo la Gemma Aspetta Perché non vengo Ok Sì va bene Ha senso ma Perché non c'è un riflesso Dello No 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 Ok Ok è bloccata È vetro Pensavo che fosse Un'altra cosa Per quello Ah Capito Ok Abbastanza easy In effetti Se non posso andare qua Almeno Ok Devo solo Fare così Esatto No 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 Gomiruigi 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 Ok no Ok Togliti Gomiruigi Voglio vedere dove sono Voglio vedere dove sono Ok Salta Aia Ok sono immortale Posso camminare adesso qui Acqua Acqua Quindi che posso spegnere Vai Dammi qualcosa di buono O meglio Dai la possibilità a gommiluigi di andare qua dentro a quanto sembra Perfetto Tanti ragni Tanti ragni Perfetto Ho detto perfetto sette volte Lo so Dammi i ragni Dammi l'altro ragno E anche il piccolo ragno Perfetto Chissà quanti soldi ho mancato Da prendere Intendo Sicuramente un bel po' Ma qui vedo Una gemma Che si raggiunge come? Ah ok Devo andare giù Però mi conviene prima allora passare per di qua Ok Perché vedo un altro ragno Che voglio assolutamente prendere Grazie È una trappola Deve essere una trappola Vero? È troppo facile per No No A quanto pare non è una trappola Buon per noi Siamo a tre gemme Perfetto Quindi vuol dire che le altre Tre Stanno nelle altre tre stanze Avevo ragione quindi Ciao ciao Ora tocca a Luigi normale Rivelami Boing Perfetto Boing No 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 Continuo a fare boing Ah va bene Non importa Ho perso altri 20 punti vita Ma non importa Sono molto 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 calmo Dammi questi cosi Così almeno forse posso Liberare il passaggio E prendere altri cuori Grazie mille Ok Vai Libera Oh aspetta Cartiginica fatta di soldi Perché? Non lo so Ma funziona Quindi grazie mille Ok E adesso Tira Oh oh Yeah E a quanto pare Il tirare La leva Abbassa questo Che debba riempire la vasca Oppure Ah no Ok ci si arriva da qui Perché c'è in effetti il gradino Scusatemi Sono ciecato Allora Devo Riempire l'acqua Vero? Per forza Non avrebbe senso Altrimenti Sì Ok È una paperella È una paperella Forma di Rebù Ma siamo seri? È carina Va bene Ma Perché? Perché? Ok Si va avanti Dai È bloccato ancora Vero? Sì Cosa? Che devo fare qui? Non posso più andare lì Non posso più andare qui Devo andare avanti Se è qualcuno che mi vuole fermare Beh sì Fantasmi Ok va bene Seguo il percorso Ok Perfetto Oh mio dio Avevo ragione che c'era un qualcosa di nascosto qui allora Slash Tutti da me Oh mio dio il lag Ok Venite qui Dove siete? Dove siete? Eccoti qua Perfetto Che mancano Ecco qua Mancava questo Di quelli piccoli intendo E adesso Manca solo quello viola Che ancora non vedo Eccoti qua Perfetto Allora Fatti risucchiare Uno Due Tre Quattro Cinque E sì Mi sa che con un buon tempismo è possibile fare sei O forse funziona solo con alcuni fantasmi eh Potrebbe anche essere quello Perché in effetti l'ho fatto solamente per ora Con i fantasmi dorati Quindi potrebbero aver raggiunto questa cosa Tanto perché sì insomma Porta Rivelati E dammi Le sfere fantasma prima Grazie Perfetto Ma prima di andare nella porta Altri vai soldoni Ok Grazie mille Siamo a quanti minuti Sì sì Dovrei farcela Se non è il boss finale ovviamente Spero che non sia il boss finale Allora Di norma Nei giochi di Luigi's Mansion Anche se sembra che ci sia una porta finale Tra virgolette Finché non ti dice Sei sicuro di andare da dentro O vedi il Rebu Vedi il primo Luigi's Mansion Non dovrebbe essere la parte finale Spero che ci dia un prompt Di Ehi Questa è la camera da letto Sì Attenzione perché se vai avanti Boss Spero seriamente Spero seriamente Che ci dia un aiuto Allora intanto qui Non posso Siamo sicuri Sembra proprio in realtà possibile farlo O forse no No Ok Posso andare solamente qua Va bene Cosa c'è nel cassetto? Una perla E un cuore Grazie Ma Posso aspirare questo vestito Ulala E attivare questo Che Fa Questo Ossia apre il passaggio Per prendere altri bei soldoni Ok Vuol dire che c'è qualcosa Di nascosto e di importante No Non gommi Luigi Grazie Di importante lì Come Ci posso passare Oppure Sì Bastava stare più attenti Wow Ok Apriti il sedano Devo Ok Bilanciare il tutto Ok No 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 Attenzione laser Dicevo Oh Mi sa che se mando gommi Luigi È una cosa migliore per tutti Quindi vai gommi Luigi Prima devo andare a destra però Quindi Piano piano Vai verso destra Meglio fare così Così almeno vedo i laser Ok No 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 Risolleva Grazie mille C'è anche una gemma là sopra Ok Se adesso però vado qua Dovrei riuscire a spegnere Tutto quanto E poi prendere il resto Almeno si spera Vero Perfetto Allora Scendi giù gommi Luigi Vai a prendere l'ultima chiave E Dai Non era così Va bene che il gommi Luigi È immortale ma Non è quello il problema Il problema è che Devo riuscire ad andare avanti Ok premi Premi l'altro Premi l'altro Perfetto Sali di un altro Non così tanto Questo è il trucco per Beh perdere a quanto pare Vai Sgonfia E poi sali un altro po' Ok Dai Sgonfia E poi sali un altro po' Dall'altro lato Perfetto Ci deve essere qualcosa Per liberare quella Quella gemma là sopra Magari in alto a tutto Sarebbe una cosa molto bella Ah in effetti Deve camminarci i gommi Luigi Là dentro No Facciamo una cosa va Tanto per sicurezza Ok Adesso che si inarqua Nell'altro senso Possiamo far camminare i gommi Luigi qua Per forse entrare qua dentro Perfetto E prendere la gemma Ok Dunque Devo semplicemente rifare il tutto con Beh Gommi Luigi perché è più sicuro Quindi vai Fammi Fammi Ok Grazie Non si attivava più No 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 Se devo fare un taglio Per questa cosa Iper stupida Mi arrabbio Non sapete quanto Ma Se lo devo fare Lo faccio Nessun problema Mi dà fastidio però eh Mi dà molto molto fastidio Ok Inoltre avrei davvero tanto bisogno di altri cuori Sarebbe una cosa stupenda trovarli adesso Sgonfia Perfetto Attenzione Ok Prendiamo la chiave E ricordo Dobbiamo prendere la chiave E tornare da Luigi A quanto sembra Perché altrimenti no Non funziona E bisogna stare Attenti Ok grazie Neanche l'ho fatto apposta C'era un ragno dorato Mi sa Si Non è il problema Allora Dammi Cuori Please Forse No eh Oh ragni Flash Grazie Non me li aspettavo Vorrei dei cuori No eh Cuore non disponibile A quanto sembra Però ragni si Grazie Attenzione No 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 Quanti ragni Ci sono qui Tanti a quanto sembra Dammi tanti bei soldoni Suonanti Ora proviamo ad uscire Mi chiedo come si Allora intanto È ingiusto Mi stai dando troppi Allora Io vorrei uscire Ma no A quanto pare Questo è il punto di farming Dei soldi finali Quindi Devono esserci un sacco di soldi Ok ora posso Grazie Ora Se questo Ah lo posso aprire Intanto Grazie Mi aspettavo un cuore Ma Non importa Ragni Qui Grazie Quanti altri ce ne sono Tremila Vediamo Se scendo Tre Due Uno Stavo per dire Basta ragni A quanto pare no Oh mio dio Quanti sono Devo fare un taglio Perché ci sono troppi ragni Siamo seri Ultimo Per favore Voglio andare avanti Ok vado avanti Non importa Gli altri ragni Dai che c'è un'altra battaglia Mini boss Tra virgolette Perché sicuramente Non posso adesso Andare subito là Vero Dai Cancelli Ok dai Allora Prima Andiamo qui No 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 Un attimo prima questi Ok Flash Dannazione Troppi 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 Ok Facciamo Piano piano E probabilmente Riuscirò a prenderli Ok Flash Quanti sono Quanti sono Flash Ok Queri 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 Grazie Ok Questi sono normali però Ok via Attenzione Dai Ok 1 2 3 3 4 Vieni qui Vieni qui Wow Dall'alto è molto più facile catturare questi fantasmi rossi Ok Se non avete ancora completato il tutto E per tutto intendo Oh Tanti cuori Grazie Grazie mille Abbiamo fatto Perfetto Mamma mia Ora Andiamo Avanti Qualcosa qui Soldi Grazie Perfetto E adesso Si va 4 Coi 1 2 1 2 3 2 1 2 bene 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 non pensavo che avessi la stoffa per arrivare fin qui un fifone come te chi l'avrebbe mai detto hai messo a suo quadro il mio hotel catturato il mio staff con quella aspirapolvere e soprattutto hai avuto la faccia tosta di sottrarmi il mio tesorino la mia preziosissima polter micia questo non doveva succedere non saresti dovuto riuscire a scappare via da rebù come il più misero dei codardi se ti fossi lasciato intrappolare in quel quadro rebù mi avrebbe lodato per la mia abilità e invece invece ho perso tutto a causa tua vogliamo iniziare dovrò occuparmi io di te in questo modo rebù si fiderà nuovamente di me e si renderà conto di quanto possa essergli utile sei pronto luigi fammi divertire dai e cominciamo la battaglia boss contro la proprietaria ok 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 è solamente un giro pensavo fossero più di beh almeno due giri a quanto pare non è così allora uomo mi lui no 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 prevedo appunto prevedo laser state molto molto attento no 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 ok verso orario questo vuol dire che gommi luigi deve correre qua dentro e fare qualcosa con il laser sì perfetto allora cominciamo a girare questo non volevo fare quello ma non importa aspetta devo muovermi mentre controllo entrambi potrebbe essere un po complessa come cosa perché non ci vedo non ho gli occhiali oggi a quanto pare non importa ok fuori 1 ok scendi giù perfetto fuori 2 mentre lei si sistema il trucco ok perché sei caduto la sotto ok fermi 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 ok no 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 luigi 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 lo catté luigi non gommi luigi ok ce l'ho fatta ok non ho ancora preso danno a quanto sembra buon per noi allora gommi luigi per prima cosa abbiamo il laser viola da togliere ok bene ci ma oh aspetta cosa vuoi fare ciccia posso sì che posso viene da paparino non andare verso il laser il laser arancione ok 1 2 3 4 5 sono cinque colpi c'è anche lo specchio qua sotto che ho appena preso a quanto sembra a un altro specchio bene snap tanos ok tanossa attenzione perché serve il ho fatto il salto cioè ho fatto il salto ma non me l'ha calcolato e questa cosa mi dà un bel po di fastidio come si fa a scappare da questo caso così così si fa così perfetto o altro sì ok sempre senso orario quindi basta correre basta abbiamo fatto posso essere liberato intanto perché c'è questo cosa qui o cuori grazie allora si è ricreato il tutto quindi vuol dire che devo per forza no no ok allora ho annullato come luigi vero sì ok allora piano piano sono anche più veloci questi cosi quindi devo stare attento a tutto e si attivano ogni volta bravo gommi luigi ok adesso gommi luigi vai qua disabilita il giallo ok non è complessa come battaglia boss bisogna però stare abbastanza attenti quindi vai così c'è un ragno lo vedo ma non importa perfetto no 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 madama crisantemi un attimo solo suppongo che liberare almeno due di questi cosi anzi tre di questi cosi sia necessario perché altrimenti non posso sbatucchiarla idealmente liberarne per no ok liberarne quattro è l'ideale perché vuol dire che posso forse provare a catturarla senza nessun problema vieni qui madama ok devo aspettare che sbatta il suo perché sì ok se non sbatte il coso per terra non posso risucchiarla perfetto vieni qui ok ancora un altro po magari riesco a concluderla in pochi cicli così e adesso 1 2 3 4 5 perfetto va tutto quanto bene pensavo fosse molto molto più complessa la battaglia boss trucco non c'è trucco e non c'è inganno a quanto sembra vai ok pensavo un altro snap pensavo un altro snap disse lui doppio vero se ok fortunatamente abbiamo già visto come si scappa da questi rasi da questi laser non da questi rasi altro senso bene mio 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 ok dovrei stare tranquillo adesso se faccio così di già e qui perfetto fuori viola ora se soffio si gira ok perfetto posso anche soffiare a quanto sembra aspetta un attimo che succede se faccio così si riflette la luce con lo specchio immaginavo una cosa del genere ma senti un attimo madama crisante perché sei andato via ai ragni di sotto mi hanno attaccato mi sa che peccato ok allora attenzione attenzione prima il verde già che ci sto ok mi sa che posso anche non girare perché il po no 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 posso girare anzi devo girare e vediamo se ho ragione adesso sono due giri vero no è solo o invece si sono tra virgolette due giri di vai fan o tre o bene non ho proprio il tempo di togliere questi cosi qui vediamo se però posso no ok qualche altra cosa da qua sopra me la dai altri cuori grazie non dico mai di no allora aia no senta signora acqua ecco cosa è c'è dell'acqua per quello non posso fare ok ok ha senso allora ha senso davvero tanto vai qua gommi luigi perfetto gommi luigi vai qua dentro perfetto ora in fretta gommi luigi perché si arriva l'acqua abbiamo perso o recupera il tutto ok perfetto ho capito cosa o meglio qual è l'errore che faccio basta stare attenti a non essere bagnati con l'acqua se riesco ad andare qui magari sarebbe l'ideale ok sono vivo sono vivo sono vivo ok allora orangi lock on perfetto manca il viola almeno un altro lo voglio togliere ok alla spenti spero di riuscire a l'ho preso in pieno si lo so spero di riuscire a finire questa battaglia boss entro oggi perché è molto molto lunga è facile se sapete quello che dovete fare ma io non so quello che devo fare quindi se un laser ok solo tre laser è abbastanza facile basta correre dietro il laser e fine posso adesso ok allora vieni qui dovrei farcela se adesso viene la madama crisantemi ok vieni qua sbatti per terra e scatunfo bene così ok non andare verso il laser ok non credo di riuscirci in una sola ok no per forza un'altra volta serve per forza spam oh 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 quante eh quante volte non lo so quante volte so solo che se magari si sbrigasse oh perfetto mi da un favore allora mi fa un favore italiano mi fai un favore ok ok e fatti catturare baby oh yeah ah 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 Oh yeah... Come on, this way... This way... Let's go... Come on... Oh yeah... Come on... Mario? Oh... Ok... Io vi saluto E nella prossima parte Di Luigi's Mansion 3 Credo Ma non c'è musica Ok Credo Che quella sia la porta Per il boss finale Avrebbe molto molto senso Quindi Tanto per controllare Ehm No Beh sì C'è una porta E non ci sono altri piani Quindi vuol dire che è il tetto E che vi ho detto Sul tetto c'è il boss finale Quindi Domani o dopo Quello che sia Andremo alla ricerca Di tutti i boo E tutte le gemme Che ci rimangono da prendere E sì So del fatto Di Morty Chuck Me l'avete scritto in tante persone Ok See you Next time Baby